Buongiorno a tutti, grazie Laura, grazie a Laura e grazie a Roberto Balzani per aver fornito questa importante occasione di confronto, di aggiornamento, di rialinamento, come ha detto poc'anzi la dottoressa Moro, delle nostre politiche, ma anche e soprattutto ringrazio l'autorità presente, ringrazio il dottor Lampis per la sua presenza, perché credo che noi abbiamo bisogno di un confronto continuo, costante tra il Nibat, il Ministero, lo Stato, i territori. Il problema dei problemi oggi credo che sia proprio questo, la capacità di governare la complessità in generale e poi anche per quello che riguarda il nostro campo nel rispetto delle diversità. Oggi viviamo e soffriamo, se credo, un passaggio difficile per la nostra democrazia, non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa. C'è quasi un rifiuto, una rimozione del dovere di affrontare le complessità e governare le complessità. Si cerca la scorciatoia della semplificazione e la semplificazione porta anche ad una riduzione, secondo me, anche degli spazi di democrazia. La democrazia è complessità, le complessità vanno governate e vanno governate appunto affrontandole anche nel rispetto delle diversità, in questo caso anche delle diversità territoriali. Questo va fatto evidentemente con intelligenza, con equilibrio, senza conservatorismi e neppure senza avventurismi che spesso sono complici dei conservatorismi perché forniscono ad essi l'alibi per non cambiare, non fare nulla. Allora dobbiamo avere equilibrio, dobbiamo avere intelligenza ed è in questa direzione, colgo l'occasione, che va anche la nostra proposta come Emilia Romagna di riforma dell'articolo 116 della Costituzione di autonomia, che deriva da questa impostazione che se mi consentite, credo che bisogna ormai sempre più esplicitarlo con chiarezza, è diversa dalla proposta che avanzano Lombardia e Veneto. Quando dicevo evitare gli avventurismi che sono complici dei conservatorismi, tanto è vero che chi vuole rifiutare oggi un percorso di autonomie differenziate indica il modello proposto da Veneto e Lombardia per rifiutare complessivamente qualunque proposta di autonomia. La nostra è diversa, la nostra è diversa in particolare per quello che riguarda le vostre materie, le nostre materie, le vostre perché poi c'è tutta una parte sulla cultura che riguarda il fondo unico del spettacolo che non riguarda questa discussione, è diversa da Veneto e Lombardia perché non è una proposta che scardina, che sovverte quello che è una dinamica e una dialettica utile e necessaria fra Stato e territori, riproponendo un nuovo centralismo che da Roma si sposta sui capoluoghi di regione, portando tutto in capo alle regioni, sovrintendenze, tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio, che per noi invece pare sbagliata, la nostra è una proposta invece di equilibrio che riguarda una utile e feconda dialettica fra lo Stato e i territori, per quello che riguarda i beni e il patrimonio librario archivistico di proprietà non dello Stato, proponiamo di tornare, la dico in sintesi precedentemente al decreto Franceschini del 2015 e per quello che riguarda in particolare il patrimonio museale e dei beni culturali, noi non proponiamo appunto un trasferimento del centralismo da Roma al centralismo in questo caso bolognese, ma chiediamo invece che per quello che riguarda i beni dello Stato naturalmente la tutela rimane in capo allo Stato come giusto che sia, ma ci possa essere da parte nostra una potestà legislativa e una capacità di coordinamento per tutto quello che riguarda la materia di valorizzazione e promozione dei beni museali, con una cabina di regia che nel nostro caso esiste già, perché noi abbiamo gli istituti beni culturali, che per storia e tradizione può e deve avere questa funzione che appunto mette insieme tutti i diversi soggetti, dallo Stato ai comuni a quelli che erano le province, le regioni, nel coordinamento appunto delle politiche di promozione e valorizzazione del patrimonio. Credo che sia una cosa di buon senso, assolutamente di buon senso, che poteva essere un tema svolto dai poli museali, ma che noi abbiamo visto che ahimè purtroppo dobbiamo sinceramente constatare che hanno da questo punto di vista non raggiunto l'obiettivo che si poteva ad essi dare. Mi si dirà che non tutte le regioni sono attrezzate a tal fine, non sono attrezzate culturalmente, non sono attrezzate operativamente e sono d'accordo ed è per questo infatti che avanziamo e questo è il senso della proposta delle autonomie differenziate, nel senso appunto che si rispettano anche in questo caso le differenze. Però dobbiamo anche dircelo con molta chiarezza, questo vale per tutti i campi di questo Paese, il morto non può afferrare il vivo, non può essere che il vivo non può rendere evidente di spiegare al meglio la sua vitalità e renderla esempio di virtù anche da emulare da parte di chi non è oggi attrezzato. Cioè noi abbiamo applicato e stiamo applicando una sorta di equalitarismo ai territori che deprime il nostro Paese, non lo fa avanzare e non fa crescere le aree più deboli, perché ovviamente deprime le aree più virtuose e le aree più deboli non hanno gli stimoli e le sollecitazioni necessarie per crescere e per competere anche con gli altri territori. Ecco da qui parte la nostra proposta per dirla con tutta chiarezza appunto di autonomia differenziata che con gioco ai parole si differenzia appunto anche da quella di Lombardia Veneto ed è altra cosa. E nel campo delle questioni che oggi noi tratteremo, della promozione, della valorizzazione, della innovazione nel campo museale che è assolutamente necessario e indispensabile, io credo che come Regione Emilia Romagna abbiamo molto da dire ma ancora anche molto da fare. Sul terreno del rapporto con il pubblico che significa comunicazione ma significa anche sempre più andare nella direzione di costruire luoghi appunto quelli museali che sono dei veri e propri, devono essere dei veri e propri luoghi di comunità. Io ho detto sempre, qualcuno di voi me l'ha già sentito dire, noi abbiamo lavorato in questi anni e in questi anni come assessorato alla cultura in generale sulle materie che ci riguardano, poi con Roberto, con Laura Moro abbiamo ragionato su come questo potesse anche prodursi sul lavoro degli istituti beni culturali per rompere quell'involucro dentro il quale noi abbiamo rinchiuso la nostra immagine nell'immaginario collettivo per anni, di una cultura e di un lavoro sui beni culturali che è qualcosa che appartiene ad un'elite, appartiene ad un'immagine polverosa e noiosa della trasmissione culturale. Noi dobbiamo invece anche dal punto di vista comunicativo, quando anche le tecnologie non si spengono tutte quante all'unisono, ecco adesso sono accese, come adesso, dal punto di vista comunicativo in questa direzione ma anche dal punto di vista pratico nel praticare l'innovazione su questo terreno, quindi far diventare i luoghi, i musei, ma non solo, anche le biblioteche, le pinacoteche, dei veri e propri luoghi di comunità in cui in qualche modo la comunità si riconosce e definisce anche la sua identità attraverso questi luoghi. Da questo punto di vista sono tante anche le realtà territoriali, i comuni, i territori che in questi anni hanno prodotto un surplus di investimenti in questa direzione. L'altro giorno con Laura siamo stati a Pieve di Cento, abbiamo visitato una realtà straordinaria dove un comune di 7 mila abitanti sta investendo anche in termini di risorse finanziarie, oltre che intellettuali, una dose massiccia di risorse per poter riconvertire quelle che erano le ex scuole alimentari, quindi un grande polo, in un polo che insieme accoglie la pinacoteca, il museo, la biblioteca, anche con luoghi di accoglienza e di ristorazione, cioè anche nella sua multidisciplinarietà e interdisciplinarietà diventano i luoghi della comunità in cui è possibile appunto incontrare la cultura, perché questo è il tema, fare incontrare la cultura, che diventa elemento fondamentale non solo dal punto di vista della crescita dell'individuo, della formazione di un individuo con capacità critiche e cognitive, ma anche in qualche modo di aggregazione appunto della comunità, di definizione dell'identità stessa della comunità e diventa anche polo di attrazione e di sviluppo complessivo del territorio, come diventa un elemento architettonico permanente importante. Naturalmente per fare questo dobbiamo anche creare le possibilità dell'accessibilità, non solo per i disabili, l'accessibilità anche proprio a chi ha una sorta di diaframma virtuale che lo separa da questi luoghi, che non riescono a viverli perché hanno quasi paura di mettere piede dentro questi luoghi e questo in questo senso può anche, oltre che venirci incontro la riconversione di spazi, dicando spazi di accoglienza, di comfort, come spesso avviene, e ci possono anche giungere in soccorso appunto le nuove tecnologie. Però anche con la capacità da parte nostra di capire che non si tratta soltanto di sfruttare le potenzialità offerte dal digitale per migliorare quello che può essere l'appeal del museo o della pinacoteca, penso io ad un uso delle tecnologie più moderne per migliorare la fruizione da parte dei visitatori e più in generale rendere coerente, immersivo, aumentato, sensoriale, persino personalizzabile il loro stesso racconto del luogo che visitano. Si parla sempre più spesso di una realtà aumentata, di una realtà virtuale, videogames di carattere didattico all'interno dei musei o per avvicinare musei, mostre, luoghi di esposizione. Non lo si deve fare solo per rendere un'offerta come quella legata al patrimonio artistico-culturale appunto di un paese più agé. Bisogna innovare quando si ha a che fare con la cultura significa sempre più rinnovare lo spirito dell'oggetto in questione e riscriverne in una certa misura portato e significato dell'oggetto stesso. Il digitale che entra nei musei e nei luoghi d'arte così, se ben sfruttato, può aumentare tanto il valore concreto e il patrimonio in questione, quanto quello percepito dall'esperienza al suo interno. L'innovazione nei musei, come dimostrano alcuni casi diventati di scuola, ha del resto come vantaggi non trascurabili un approccio davvero centrato sul visitatore e i suoi sensi, una dimensione esperienziale molto marcata, spesso anche un livello di comprensione maggiore, che è quello che dobbiamo in qualche modo suscitare, dobbiamo suscitare curiosità e comprensione ad un livello maggiore. E perché risulti davvero funzionale dunque l'introduzione della tecnologia nei luoghi di cultura, dovrebbe essere frutto di una visione strategica, il suo ruolo deve essere quello di avvicinare il fruitore all'oggetto d'arte, per questo non può esserci competizione tra gli stimoli, bisogna evitare o un overload di sollecitazioni da un certo punto di vista nei confronti visitatore e l'eventuale presenza di dispositivi anche ai tech, non deve intralciare, non deve diventare opprimente quasi appunto un qualcosa che intralcia anche l'esperienza di visita, deve essere un supporto che incuriosisce, avvicina e rende un approccio appunto più diretto. Il corollario è che non si può non puntare sulla qualità dunque, la tecnologia nei musei e negli altri luoghi di cultura deve essere, la dico così, invisibile e poco invadente. Però mi sia consentito di dire, apro una prensi anche per un caso specifico e poi sottoporrò sia al dottor Scalini che al dottor Lampis all'Atre della riunione, anche noi dobbiamo aggiornarci. Se si vuole ad esempio produrre un videogames che promuove un sito culturale, un bene culturale della nostra regione o non, è sottoposto, è sottoponibile una ricostruzione virtuale di un sito culturale, di un bene culturale, è sottoponibile alle stesse norme sui diritti d'immagine che corrisponde al fatto di filmare, fotografare e riprodurre un'immagine quando questa viene riprodotta in maniera fantasiosa, in virtuale? No, secondo me. Però su questo ad esempio non c'è ancora una chiarezza normativa e su questo se un gruppo, una cooperativa, una società di ragazzi o non vuole fare una promozione come nel nostro caso il Castello di San Leo in virtuale per un videogames viene sottoposta alla trafila burocratica che è della richiesta dei diritti d'immagine come se stessero fotografando o filmando quei luoghi e non è una ricostruzione verbale. Dobbiamo anche noi aggiornarci anche da questo punto di vista perché altrimenti rischiamo di rimanere indietro e anche in qualche modo privarci di possibilità ulteriori di promozione. L'ho fatta anche già troppo lunga, concludo quindi su quello che io credo che diventa la nostra sfida che è fatta naturalmente di come sempre di una capacità di muoverci sul crinale delicato ma importante di innovazione e tradizione. La tradizione è tutto quello che già noi conosciamo, compreso anche la necessità di rendere circuitabile a rotazione anche tutto il patrimonio che noi abbiamo nei depositi attraverso mostre permanenti che abbiano la capacità di circuitare continuamente il grandissimo patrimonio dei nostri depositi ma anche l'innovazione appunto sul fronte di tutto ciò che ho cercato brevissimamente in sintesi di mettere in fila. Io credo che anche per questo, il richiamo che ti faccio all'inizio, quello che può essere un ruolo di coordinamento fra tutti i soggetti, tutti gli enti dello Stato può diventare fondamentale e determinante per determinare una politica nuova, moderna, al passo e competitiva con quello che vediamo in tanti altri Stati europei e anche del mondo. Grazie, buon lavoro. Grazie all'assessore, ha lanciato tantissimi stimoli. Penso che il dottor Lampis è veramente. Grazie a tutti.